Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera, bentornati al nostro appuntamento settimanale con gli eventi. Come sempre, tante le manifestazioni sul nostro territorio andiamo subito a scoprirle insieme. Dal 23 al 27 luglio a Villa di Serio, Rock sul Serio. Presso il campo sportivo un festival musicale no profit, come ogni anno 5 serate di ottima musica. Bar e pizzeria. Parte del ricavato viene devoluto all'associazione Amici dell'Oncologia. Inizio concerti alle ore 21. Dal 25 al 27 luglio a Serete, festa della sorgente. Un weekend alla scoperta degli antichi mulini di Serete. Venerdì, attività di trebbiatura e laboratorio del pane. Cotto nel forno a legna e prodotto con farine coltivate al naturale a Serete. Sabato e domenica apertura di stand gastronomici, esposizione e lavorazione dei prodotti alimentari tipici della Val Borlezza e dell'Alta Val Seriana, visite guidate ai mulini ad acqua e al pestù della rosca. Spiegazione del funzionamento della trebbia. Venerdì 25 luglio a Castione dalle ore 18.30, Castione Country. L'intero paese si anima seguendo il tema country, aperitivi nei bar, animazione e musica fino a mezzanotte con il gruppo Team Country Valle Camonica. Spettacoli artistici, tour con cavalli e poni e menu tipici nei ristoranti. Anche per questa stagione tornano gli appuntamenti con i percorsi turistici e culturali, laboratori curati dai giovani di Artelier. Tra i tanti appuntamenti segnaliamo venerdì 25 luglio a Clusone il percorso in notturna alla scoperta dell'Oratorio dei Disciplini e del noto affresco della Danza Macabra. Ritrovo alle ore 21 sul Sagrato della Basilica. Prenotazione obbligatoria presso l'ufficio IAT di Ponte Nossa. Sabato 26 luglio a Peia torna alla Corsa dei Cotechini. Un'originale corsa a staffetta generazionale tra le vie del paese con i concorrenti dei paesi della Val Gandino impegnati a raccogliere cotechini nel nome dell'antica tradizione che lega Peia ai suini selvatici. Il cinghiale è infatti il simbolo di Peia al punto da costituirne lo stemma comunale. Durante la serata saggi di prodotti tipici presso i locali convenzionati. Sabato 26 luglio a Val Bondione Sport Day. Per l'intera giornata a Val Bondione ospita stand e prove gratuite dedicate agli sport più diversi. Arrampicata, canyong, nordic walking, running e tanto altro. Ospite d'eccezione a Lizzola il campione di bike trial Gabriele Visini. Mentre per i più piccoli campo da rugby gonfiabile. La giornata si concluderà con un doppio concerto presso il piazzale Sciovie di Lizzola e presso il palazzetto dello sport di Val Bondione. Sabato 26 luglio a Ponte Nossa, Sagra della Paella. Il tipico piatto spagnolo sarà al centro di una divertente serata presso l'area feste del Parco Ramello. Domenica 27 luglio a Cassione della Presolana, Presolana Trail, lunghe distanze. Gara valevole per il campionato italiano FIDAL di Corsa in Montagna. Con partenza e arrivo in località Donico. In occasione della gara, dalle ore 10 e 30, volo in elicottero gratuito ad estrazione per 5 persone presenti al rifugio Rino Olmo. Martedì 29 luglio a Gorno iniziano gli appuntamenti con il dopo cena in miniera. Una visita notturna al sito minerario della fattoria Riete di Gorno per conoscere il mondo dei minatori della Val del Riso. A seguire momento folcloristico e degustazione del caffè col Perulì. Ritrovo previsto alle ore 20 presso la fattoria Riete. L'evento si ripeterà con le stesse modalità tutti i martedì del mese di agosto. Infine segnaliamo due interessanti iniziative alla scoperta delle erbe spontanee. Sabato 26 luglio a Val Bondione e venerdì 8 agosto ad Oltre il Colle. Passeggiata nei boschi alla scoperta delle erbe spontanee. Degustazione di tisana e cena presso il ristorante con piatti a base di erbe. E con questo evento anche per questa settimana è tutto. Io come sempre vi ricordo il nostro sito www.valseriana.eu e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buonasera a tutti.